Aule per i corsi dell'Università e Open Space, questa la nuova vita delle loggie del grano. La Giunta Ghinelli ha infatti deliberato la concessione in uso gratuito dell'edificio all'Università degli Studi di Siena. Una decisione che segue la richiesta di utilizzo dei locali da parte dell'Ateneo come spazio aule integrativo, essenziale per l'organizzazione dell'attività didattica e accordata dall'amministrazione già a partire dal prossimo anno accademico. L'immobile ospiterà le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale di lingue e scienze dell'educazione e al nuovo corso di laurea attualmente nella fase progettuale inerente al turismo e le scienze della formazione primaria. Gli spazi ospiteranno anche le attività dei corsi di specializzazione per l'insegnamento, convegni nazionali ed internazionali. Abbiamo trovato la destinazione che più ci sembrava adeguata che il luogo, non più un'attività commerciale come era prima, ma una cosa più istituzionale in questo senso e siamo ben felici di questa soluzione perché intanto ricolifica quell'ambiente e quella zona che obiettivamente non si poteva vedere in un posto vuoto e poi la ricolifica nel senso in cui volevamo noi, insomma, un tipo di attività non invadente, non invasiva che comunque serve alla città.